Dovevi essere morta. Paul è un ragazzo prodigio, appassionato di elettronica, ammesso a un centro medico di ricerca per i suoi riusciti esperimenti sul cervello umano. Si è costruito un grazioso robot amico, BB, che lo segue dovunque, corredato da un sofisticato sistema di microcircuiti che gli consentono prestazioni favolose al servizio e in difesa del padrone. All'amicizia dell'inseparabile BB si aggiunge quella di Tom, uno scolaretto che distribuisce giornali nelle ore extrascolastiche e assiste ammirato alle intelligenti realizzazioni di Paul, resistendo con lui alle neurotiche dimostranze di una vicina velenosa la quale riesce a distruggere il loro amato robot. A complicare l'esistenza già avventurosa di due amici è l'arrivo di una graziosa vicina, Samantha, che un padre ubriacone e violento tiene segregata e della quale Paul si innamora. A rientro da un invito a cena in casa di Paul, la violenta reazione del padre provoca la morte di Samantha, nonostante i disperati tentativi dei medici per salvarla. Paul non si rassegna alla perdita dell'amata e con l'aiuto di Tom ne rapisce la salma all'ubitorio per inserirle nel cervello il microcircuito del distrutto BB. Dunque, abbastanza originale e accattivante nella prima parte, votante intorno alle imprese divertenti di BB, il film perde quota nella seconda, quando traduce in horror le straordinarie possibilità del microcircuito BB, che trasferito sul cervello di Samantha la trasforma in una vendicativa e rinni, irrazionale e truculenta. Da questo momento il racconto filmico straripa di incongruenze e di gratuità spettacolari, fino a resentare il risibile. La precarietà dell'impianto narrativo e le pesantezze verbali rendono il film assai discutibile.